Bene amici, quando vi racconto che il tazzo sta ormai entrando in ogni ambito della nostra vita, beh, è proprio così anche nell'ambito dell'irrigazione del cavolano. Sì, perché un giorno mi si è rotto il mio vecchio tazzo, quello classico, bruttarello, temporizzato, a pile che andava da dieci anni, ho detto, mmm, andiamo a vedere cosa ci offre la tecnologia di questo tappo e ho selezionato questi quattro tro tro i mezzi. Ovvio poi ce ne siano molti di più, soprattutto per quanto riguarda i giardini, grandi, elettrovalvole, ma io ho un balcone, penso che l'esigenza principale sia quella, ma ci sono dei sistemi che possono anche andare a gestire le van, ma partiamo con ordine, il primo che ho comperato è il Nenod, la rea e rete. Altro cazzo, ho preso il link tap che mi sembrava molto interessante perché ha qua un flussimetro che conta i litri di piscio che escono da il cazzo quando si va a pisciare, è un mondo di piscio, spero di avervi aiutato con questo video, mi sembra di fare un po' il giardiniere che fa gli impianti di irrigazione, ciao! Oh ah!